Ciao cari ragazzi, sono Gabriel Osta. Ma lo sapete qual è la novità? La novità è questa. Noi dobbiamo cercare di vincere l'ultima sfida, visto che siamo ancora in questo sesto episodio di Sly3. Dobbiamo sconfiggere il dottore M entro il tempo limite. Dobbiamo eliminarlo prima dello scadere del tempo. E poi ricordatevi che il dottore M ha questa macchina che sembra un ragno sopra la sua testa e poi divide i suoi poteri, i suoi elementi che sono acqua, elettricità e fuoco. Non bisogna mai perdere per nessun motivo perché se perdiamo poi ci dice sei debole come tuo padre. Però nessun giocatore ha mai completato l'ultima sfida. A volte il cattivo dice sempre questa è la sfida finale, quella in cui ci rimetterete le penne. Mi sa che non vinceremo. Stiamo subendo troppi danni. Prima aveva il potere dell'acqua ma ora ha il potere dell'elettricità. L'importante è che facciamo in continuazione triangolo più cerchio, questo potenziamento preso dal ladronetto. Ecco dai, che ora ci manca poco. Quando vola attaccatevi in quei ganci. Poi quando sta facendo il laser voi dovete strisciare sotto il veicolo così lo distrugge. Ora fate attenzione perché ha il potere del fuoco e non dobbiamo farci abbrustolire da quelle palle di fuoco. E poi attenzione ai missili. Io non voglio perdere quest'ultima sfida, se no ci tocca ricominciare da capo. E non voglio che prenda in giro Sly dicendo sei debole come tuo padre. Devo sbrigarmi perché sta per scadere il tempo. Oh no, stiamo perdendo. Ah, scusatemi. Siamo riusciti a vincere e ce l'abbiamo fatta. Ale. Sì.